Buonasera a tutti e a tutti, grazie per esservi collegati e per partecipare a questa prima iniziativa della nuova serie di incontri della Biblioteca Austriaca di Udine dal titolo Tradurre e recitare letteratura austriaca contemporanea con Giovanni San Paolo. Intanto ve lo presento, io sono molto contento di presentare Giovanni perché ho conosciuto Giovanni alcuni anni fa in occasione di un convegno su Kafka che lui aveva organizzato e non lo dico così tanto per ricordare ormai i tempi passati ma perché anche in quell'occasione Giovanni San Paolo si dimostrò molto interessato a che cosa fanno diciamo così le giovani generazioni perché era un convegno aperto soprattutto a chi stava facendo il dottorato oppure allora lo aveva appena concluso e vediamo che anche in questa operazione che lui ha condotto direi in modo magistrale ha prestato veramente, ha avuto un occhio veramente di riguardo nei confronti, chiamiamola così, delle nuove leve perché ha fatto partecipare i suoi studenti, le sue studentesse, i suoi corsi a questa grande impresa della della traduzione dei testi di letteratura austriaca. Ciao Giovanni. Buonasera, ciao Simone. Per il resto Giovanni non ha fatto chiaramente solo questo, Giovanni San Paolo è professore ordinario di lingua tedesca all'Università di Roma 3, ma non si occupa solamente di lingua di traduzione, anzi si è sempre occupato con molto interesse anche di letteratura, ricordo la sua importante monografia sulle affinità elettive di Goethe tradotta anche in tedesco, un privilegio che non tutti i germanisti possono vantare, è stata anche pubblicata in Germania, dunque i suoi interessi sono molto ampi, si è avvicinato alla cultura austriaca fin da praticamente da quando era studente o quasi, con un interesse per la figura di Otto Weining, dunque ha sempre avuto una vicinanza nei confronti dell'Austria in particolare per Vienna e cosa c'è da dire? Riguardo alla sua operazione, che poi Giovanni ci presenterà con maggiore ricchezza di particolari, voglio anche aggiungere che era inevitabile che prima o poi le vie dell'operazione compiuta da Giovanni San Paolo e dell'Associazione Biblioteca Austriaca si incrociassero perché diciamo siamo un po' sotto lo stesso tetto quello del Ministero per gli Affari Europei e Internazionali dell'Austria, che patrocina l'Associazione Biblioteca Austriaca, ma che ha anche iniziato l'operazione di Schreibart, da cui poi è partita anche tutta l'operazione di traduzione curata da Giovanni. A questo punto io direi che posso passare alla parola Giovanni, nel frattempo cerchiamo di far rientrare anche Paolo che poi in seguito dopo la presentazione che farà Giovanni, anche se Giovanni mi ha chiesto di non parlare di presentazione perché farà una cosa diciamo così a metà strada tra la presentazione, la conferenza e anche qualche altro diciamo così genere performativo, vedremo, appunto ci sarà anche la parte di lettura dei testi di Paolo Fagiolo che svolgerà un ruolo ovviamente molto centrale nella nostra serata. Grazie, a questo punto do la parola a Giovanni che ci parlerà di tutto ciò che vorrà dire. Io ti ringrazio Simone per questa lusinghiera presentazione, stavo pensando anche che sono 14 anni che sono passati da quando ci siamo conosciuti e allora io seguivo i giovani e tu eri tra i giovani, adesso lo siamo diversamente ma comunque intanto volevo ringraziare molto oltre a te la Biblioteca Austriaca, il Forum Austriaco di Cultura di Milano e anche le colleghe dell'Università di Udine che stanno insieme a te organizzando questa cosa da un anno più o meno perché è uno di quegli eventi che sono scivolati via col Covid. Ecco ci tenevo a dire che io non parlerò molto ma mi alternerò poi con l'attore Paolo Fagiolo che ci leggerà vari brevi testi per dare un'idea di quello che è l'oggetto poi di questo nostro discorso e l'oggetto di questo discorso si potrebbe definire in generale la diffusione della letteratura austriaca in Italia. Ora diffusione della letteratura austriaca contemporanea ovviamente in Italia è una questione che contempla una serie di dimensioni, la traduzione è uno di questi aspetti, poi ne parleremo perché io appunto ho pubblicato tre volumi tradotti da miei allievi, studenti, dottorandi, dottori di ricerca. Questo è un aspetto, un altro aspetto molto importante è l'editoria, il sistema in un certo senso dell'editoria italiana e per un altro verso c'è anche una storia che come dire configura quella che è la ricezione e l'interesse per la letteratura austriaca via via nei decenni, perciò io risalirei adesso un attimo a quella che è la situazione nel, che era la situazione nel dopoguerra. Nel dopoguerra c'era da conoscere Kafka, Kafka è un autore nuovo, Rilke era già conosciuto ma insomma se ne fanno nuove traduzioni, chi assume un ruolo guida nella diffusione della letteratura austriaca contemporanea è naturalmente l'editore culturalmente più importante del secondo dopoguerra che è Einaudi. Einaudi realizza quelle due grandi imprese che sono la traduzione dell'Uomo senza qualità di Musil e poi della trilogia dei sonnamboli di Hermann Broch. Due grandissime grandissime opere della letteratura austriaca allora contemporanea, diciamo, le salivano a poco tempo, poco tempo prima e Einaudi pubblica queste cose ovviamente nel quadro di quella sua visione, diciamo così, pedagogico-illuminista della letteratura. Questa situazione cambierà abbastanza presto, cambierà abbastanza presto quando piano piano la letteratura austriaca, e su questo Simone mi può dare una conferma oppure no, la letteratura austriaca diventa in un certo senso un monopolio di Adelphi, perché Adelphi pubblicando quasi tutta la letteratura importante, non solo la letteratura, anche la filosofia del primo novecento, della cosiddetta della vina moderna, di inizio novecento, diventa l'editore di riferimento di un'Austria di inizio secolo, Adelphi, parlo dell'Adelphi degli anni 70-80, quando l'immagine di Adelphi, che peraltro nasce diagonalmente da una costola di Einaudi, l'immagine di Adelphi che si era stabilita come editore di Nietzsche, Adelphi fa la prima edizione critica, la prima unica e definitiva edizione critica delle opere di Nietzsche, l'immagine di Adelphi si è stabilizzata come editore di Nietzsche e poi compie questa grande operazione sulla Vienna di primo novecento, però vissuta non come qualcosa di storico, ma come qualcosa di assolutamente contemporaneo, cioè la Vienna per riassumerla in uno slogan con la frase di Karl Krauss, laboratorio della fine del mondo. Ecco, la letteratura, l'Austria, questa immagine mitologica dell'Austria che viene creata da Adelphi è quella di un'Austria, diciamo così, nichilistico-gnostica, perché poi la grande mente dietro tutto questo è Roberto Calasso, per cui nel contenitore Adelphi tutte le cose si contaminano tra di loro e la letteratura austriaca di primo novecento viene a, come dire, contagiare e contagiarsi con tutto il catalogo Adelphi e il fenomeno, il fenomeno interessante è anche che molte case editrici piccole e medie, ce ne sono tantissime, ogni anno a Roma si tiene una fiera molto importante, un salone dei piccoli e medi editori italiani che sono una realtà importantissima, molti di questi editori in un certo senso diventano imitativi nei confronti di Adelphi. Faccio un esempio di una casa editrice che non esiste più, ma che era lì vicino a Pordenone, c'era Studio Tesi, che era una casa editrice di profilo culturale elevatissimo, con progetti suoi, però per alcuni versi, per alcuni versi era anche una delle tante case editrici nel gorgo, diciamo, di Adelphi. Non che ci sia niente di male, ma semplicemente tutto ciò ha oscurato altre cose. C'erano poi editori che in parte sono, autori scusate, che in parte sono Ingeborg Bachmann, Thomas Bernhardt viene fuori più avanti, Christoph Hansmeier, Peter Handke, ecco, Peter Handke ha avuto il Nobel per la letteratura a fine 2018, ma la sua storia editoriale in Italia è curiosissima, per dire come appunto l'interesse per una certa Austria del primo novecento abbia penalizzato gli autori, l'attenzione per gli autori contemporanei in Italia. Se voi guardate il catalogo di Peter Handke nell'editoria italiana, praticamente ogni libro è pubblicato da un editore diverso, a parte Garzanti, a parte Garzanti che ha, io mi riferisco a prima del Nobel, Garzanti pubblicato tre, quattro titoli forse, ma per il resto tutte le opere di Peter Handke sono pubblicate da ciascuna, da un autore diverso, il che significa che l'autore ha pubblicato un libro e il libro non è arrivato molto e l'editore poi non si è arrischiato a pubblicare un secondo titolo. E stiamo parlando di un premio Nobel, allora questi che ho nominato sono i grandissimi nomi, a questi si potrebbe aggiungere un altro premio Nobel che è il Friede Jelinek per la quale c'era attenzione già da tempo, già almeno dagli anni 80 era tradotta, però ciò non toglie che ci sono le generazioni che sono nate diciamo più o meno dal 60 in poi che non sono conosciute, non sono tradotte, non sono lette. Allora vi racconto come è nato il mio lavoro di traduzione, non è stata un'idea mia peraltro, accennava prima Simone che voi conoscete probabilmente questo progetto, il Ministero degli Esteri Austriaco pubblica, ha pubblicato non regolarmente nel tempo chiaramente perché sono operazioni molto complesse, comunque pubblica, nel 2016 questo volume nominando una grande giuria di prestigiosi critici letterari, scelgono una serie, ecco qua si vedono sono una quindicina di scrittori, di scrittori da inviare nei forum austriaci di cultura sparsi nel mondo per fare le loro presentazioni, letture, leisungen come si dice in tedesco. Allora che cosa succede? Che nel 2017 la allora direttrice del forum austriaco di cultura di Roma, la dottoressa Elke Aztl, ha l'idea di fare una traduzione, dice ma perché non facciamo una traduzione di questa cosa? E così cercava un interlocutore nell'università e questo interlocutore sono poi stato io e così è nato questo progetto che è un edizio minor di quel volume lì in cui abbiamo scelto, ho scelto io i testi che erano, che potevano reggere in traduzione, insomma ci sono tanti motivi per cui alcuni testi non potevano stare in questa antologia, insomma questa nasce in gran parte addirittura in aula, come traduzione di gruppo in aula, traduzione di gruppo come molti di voi sapranno, è un'esperienza bellissima perché è un brainstorming in cui tante sensibilità, tanti cervelli hanno l'idea felice per una cosa, chi per l'uno, chi per l'altra, richiede poi però un lavoro di revisione, molto molto faticoso, tante revisioni. Che cosa succede? Questo libro è piaciuto, sono stato invitato a farne presentazioni un po' ovunque, belle recensioni, e insomma da quel progetto lì è nato poi un altro volume nel 2019 in cui i testi sono stati scelti da me e dalla dottoressa Hatzler, la direttrice del Foro Mostrego di Roma, come dicevo, e abbiamo scelto adesso il progetto, qui si era staccato completamente da Schreibart, anche se su quella falsa riga abbiamo puntato qui soprattutto sui giovanissimi, ci sono molti autori che non hanno neanche 30 anni, autori autrici, e poi sempre nel 2019 un terzo volume, un terzo volume che invece mostra soprattutto la varietà di generi, si va dal saggio alla slam poetry di cui poi parleremo più tardi. Niente, che cosa devo dire di questa esperienza di selezione, questo tentativo di raffigurare un paesaggio? Io mi sono occupato anche di geografia della letteratura, e ciò che la geografia della letteratura ha da insegnare è che il paesaggio è complessità, mentre la carta geografica semplifica da un punto assoluto a una distanza siderale dello spazio, poi invece la vera geografia è descrivere il territorio e scopriamo che il territorio è complesso, perciò se dovessi dire che cosa accomuna tutti questi autori dovrei in un certo senso ribaltare la domanda e rispondere che ciò che accomuna questi autori è ciò che li differenzia, cioè la varietà, la estrema varietà, ciò che colpisce nel paesaggio letterario austriaco, ma mi riferisco anche e soprattutto alle giovanissime generazioni, è una ricchezza di una letteratura di alto, altissimo anche livello, con caratteristiche le più diverse, ed è questo che io ho cercato di rappresentare in queste tre antologie, che peraltro, prima che me lo dimentichi, vi faccio vedere, sono uscite poi grazie al direttore del forum austriaco attuale, il dottor Schnetz, sono stati poi riprodotti in cofanetto. Allora, c'è questa varietà, una domanda che mi viene posta spesso è quella dell'austriacità, come si potrebbe definire l'austriacità di questi autori e di questi testi? E' vero, ci sono caratteristiche che sono peculiari, peculiari della scrittura, della letteratura austriaca, ma sono tante e diverse in ciascuno, sono tante e diverse in ciascuno, che sono una dominante che non riguarda tutti, ma che comunque è fondamentale, è quella di una grandissima internazionalità. Prendiamo questo concetto in molte declinazioni diverse, internazionalità per me può essere, per esempio, Valerie Fritsch, che si definisce viaggiatrice, scrittrice e fotografa, e che fa lunghi viaggi che durano mesi e mesi nell'Africa centrale, oppure che ha fatto un viaggio in automobile da Graz fino al Kazakistan. Internazionalità può essere anche la grande multiculturalità dell'Austria, vedremo anche, avrò occasione di parlarne adesso leggendo i testi, vedremo autori che scrivono in sloveno e in tedesco, andando in una direzione o nell'altra indifferentemente, per tantissimi motivi biografici. C'è Dimitre Divnev, che è abbastanza noto anche in Italia, che è bulgaro di nascita, è cresciuto in Bulgaria, poi a un certo punto si è trasferito in Austria, ha cominciato a parlare in tedesco, a scrivere, adesso insegna all'Università di Vienna, se non sbaglio, filosofia. In Austria ci sono molti scrittori di vari paesi che in Austria scelgono il tedesco come loro lingua di espressione. Dietro chiaramente si legge in filigrana lo stato dei molti popoli, la estrema, diciamo anche naturalezza, con cui l'impero astro-ungarico assemblava etnie diverse, come Vienna stessa è un patchwork di tante identità, in questo consiste anche la sua identità nel fatto di essere plurima. Poi vedremo alcuni aspetti, c'è una inconfondibile ironia, per esempio, austriaca, che emerge spesso. Poi c'è una tensione filosofica, per esempio, una vicinanza con la filosofia, non in tutti chiaramente, e per questo dico i fili della trama dell'Austria-Città sono differenti e sono vari, sarebbe sciocco semplificare in questo senso. In questi tre volumi che ho curato sono rappresentati molti autori giovanissimi, in totale gli autori e le autrici sono 42, che abbiamo presentato con una nota bio-bibliografica, ma una foto è come se si trattasse di piccole monografie. Allora, nei testi che ho scelto per questa sera, ho visto che in effetti non ho scelto proprio i giovanissimi, i giovanissimi vengono alla fine, cominciamo con Alois Hochnich, che è un autore che adesso ha 60-61 anni, importantissimo. Negli anni 90 era visto come l'autore di punta della nuova generazione, autore non facile, autore tutt'altro che facile, dall'espressione molto asciutta, enigmatica, vedremo. Peter Bixell ha detto di lui, Peter Bixell è il grande scrittore svizzero, ha detto, la tensione delle sue storie nasce dalla noia quotidiana. C'è un perturbante che nasce nella quotidianità e vedremo come anche il racconto che leggeremo si fa pensare a Kafka, a Beckett. Di Hochnich vorrei ricordare il romanzo, per esempio, Le mani di Leonardo, che vediamo qua, no, questo è un altro. Il romanzo Le mani di Leonardo tratta di un protagonista che riceve in eredità una villa da uno zio che non conosceva e questa villa si trova sul passo di Loibl tra Carinzia e Slovenia e questo personaggio scopre che nei pressi della villa ci sono i resti dimenticati di un campo di concentramento che nessuno ricorda più. Si tratta realmente del campo di concentramento di Loibl che era una sorta di filiale di Mauthausen e che fu creato affinché i prigionieri del campo di Mauthausen scavassero un tunnel. Non c'era nessuna memoria di questo fatto e questo romanzo è una grande riflessione sul male, sulla responsabilità etica, ma ha anche contribuito a riscoprire questo luogo di una memoria che l'Austria ha fatto in modo di cancellare sempre. Oppure vi ricordo un racconto di Alois Hotschnich che si intitola Una specie di felicità eccolo, ce l'ho qui Una specie di felicità il cui protagonista è un ragazzo che nasce senza gambe e la narrazione è in prima persona e consiste nelle riflessioni e emozioni di infinita rabbia di questo ragazzo verso chi per esempio manifesta verso di lui compatimento verso il mondo in generale per la sua sfortuna. Sono sempre testi molto forti quelli di Hotschnich. Ora noi leggiamo un racconto che si intitola Forse stavolta, forse adesso che è anche il racconto che dà il titolo a una raccolta in inglese dei racconti di Hotschnich. Hotschnich è un autore molto tradotto in inglese ma poco tradotto in italiano. Allora, forse stavolta, forse adesso di Alois Hotschnich Walter non viene e questo per noi andrebbe anche bene se i nostri genitori non vivessero per altro che per il pensiero di lui e per la speranza che lui possa una volta o l'altra comparire quando ci incontriamo tutti da loro e così essere al completo l'intera famiglia tutti come se ci appartenessimo l'un l'altro come se fossimo una cosa sola una volta ancora o piuttosto una volta perché così non è stato mai quando li vado a trovare e come l'ultima volta propongo di andare insieme il giorno successivo da mia sorella a festeggiare il suo compleanno loro sono contenti perché a niente danno più importanza che al legame tra i loro figli e così decidiamo di fare una sorpresa il giorno dopo a mia sorella e a mio fratello e anche all'altro fratello forse se ci sarà tempo perché lui abita un po' più lontano tu sai quanto mi fa piacere sapervi insieme dice mamma e racconta che cosa è avvenuto da loro durante la mia assenza e ci sentiamo sempre più vicini e dopo un po' lei diventa taciturna e silenziosa e papà dice forse è meglio che andiate voi due e che io rimanga a casa potrebbe essere che domani passi Walter e la mattina dopo noi non andiamo da mia sorella perché mamma non lascia volentieri solo papà e anche lei non vuole perdersi lo zio Walter se viene per una volta e così tutti e due rimangono lì a casa ed io rimango da loro ed è mia sorella che viene in visita a festeggiare il suo compleanno a casa dei genitori e non a casa sua come ha desiderato per decenni già da sempre uno dei due è rimasto a casa tutti e due insieme da quando io sono in grado di pensare non hanno mai lasciato la casa e da qualche tempo non la lasciano neppure più uno per volta per il timore che possa venire Walter mentre loro non ci sono se vogliamo vederli dobbiamo andare noi da loro e noi lo facciamo occasioni ce ne sono spesso il compleanno di papà il compleanno di mamma l'anniversario del loro matrimonio il compleanno di mio fratello e dell'altro mio fratello che sembra somigli tanto all'ozio Walter si dice con omastici matrimoni e battesimi il giorno di tutti i santi e il giorno dei morti natale pasco e pentecoste motivi ce ne sono abbastanza e noi li rispettiamo da ogni parte ci mettiamo in viaggio e ci ritroviamo a casa dei nostri genitori oltre a Walter papà ha un altro fratello e una sorella loro ci sono sempre ad ogni festa e i loro figli e figlie le cugine con i loro bambini i nipoti il prozio tutti cioè non proprio tutti perché è sempre lo zio Walter che manca e per quanto inverosimile sia la sua venuta dopo tutti questi anni essi rimangono costanti nel loro desiderio di lui e nella speranza che questa volta oggi proprio adesso possa forse accadere ma Walter non viene almeno non quando noi siamo da loro la sua assenza non è compensata da tutti noi che siamo lì e per quanto ci sforziamo di distoglierli da lui e di farglielo dimenticare questo proprio non ci riesce tutti noi si contiamo e tuttavia non contiamo quanto lui perché l'assenza di Walter ci fa scomparire tutti e ci rende invisibili agli occhi dei genitori e a noi stessi le assenze vengono notate e registrate ma solo fino al momento in cui l'assente di turno entra dalla porta per unirsi al gruppo in attesa e lì scomparire il gioco è sempre lo stesso chi c'è e chi no quanti siamo già e chi poi forse verrà ancora e chi no se durante una festa un estraneo si presenta alla porta o passa davanti a una delle finestre capita abbastanza spesso che i bambini dei miei fratelli sussultino e si guardino fra loro per accertarsi se per caso l'estraneo non potrebbe essere Walter e si rispondono che quelli di sicuro non può essere quello di sicuro non può essere lo zio Walter e fanno cenni dubbiosi o scuotono la testa non è lo zio Walter no e per un qualche imperscrutabile motivo lo zio Walter non è così lo zio Walter è più alto o anche più basso a seconda perché ognuno di noi ha la propria immagine di Walter ma secondo tutti i racconti lui è d'animo Bonario affabile e premuroso e interessato a ciascuno di noi così ci viene raccontato ma noi non ci crediamo come anch'io da bambino per anni non ho potuto credere neppure che esistesse veramente e invece Walter esiste ha una moglie che si chiama Maria in casa dei miei genitori lei viene e va ed ha un figlio ha un nipote dunque perché mai non dovrebbe esistere esiste e viene in visita se è vero quello che i genitori ci raccontano perché testimoni di quelle visite non ce ne sono mai comunque sia dopo la sua visita la vita dei miei genitori per un po' è più serena ci manda i suoi saluti ha una parola gentile per ciascuno di noi assicura che vuole esserci al prossimo incontro e non vede l'ora di conoscerci ognuno di noi così ci dicono questo ci viene detto e questo sentiamo e c'è ancora sempre qualcuno di noi che ci crede o lo dà a vedere per amore dei genitori questo non si può dire tutti infatti ci comportiamo come se ci credessimo è come se questo fosse possibile un giorno forse addirittura questa volta adesso i nostri genitori pendono da quest'uomo e con loro pendiamo tutti noi Walter li fa penare e loro glielo permettono e noi anche come se avessimo un debito nei suoi confronti o dovessimo scontare una colpa che nessuno sa in che cosa consista d'estate se il tempo lo permette aspettiamo in giardino perché con la confusione che fanno i bambini spesso in casa non è facile resistere allora sediamo al sole o sotto uno degli alberi solo la sedia di Walter sta appartata all'ombra sotto uno degli altri alberi Walter non sopporta il sole la luce non gli fa bene e le correnti d'aria lo fanno ammalare per questo porte e finestre in casa sono sempre chiuse perché Walter non si deve ammalare d'estate aspettiamo al sole e all'ombra degli alberi e nella stagione fredda aspettiamo nelle stanze non si accende il riscaldamento in casa il caldo non fa bene a Walter dunque d'inverno stiamo seduti gelati nelle stanze ed abbiamo gli uni gli altri davanti agli occhi e Walter nella testa e cerchiamo di star bene insieme e stiamo bene e anche no stiamo lì seduti e cerchiamo di dimenticarlo e di farlo dimenticare ognuno per parte sua e se per caso per un momento si riesce o perlomeno sembra che si riesca ad ottenere un po' di calma di pace e tranquillità ecco che mamma nel silenzio dice se non ci penso che noi stiamo così bene mentre Walter è solo da qualche parte io non lo posso sopportare dice Walter non è solo conosciamo sua moglie il figlio e il nipote che si chiamano tutti e due Walter come lui solo non è lo sappiamo ma non protestiamo perché questo per mamma non conta per mamma Walter era ed è solo neanche Ria cambia niente dice e scuote la testa noi abbiamo gli altri ma Walter sta sempre solo così noi dobbiamo pensare a lui e preoccuparci di lui dice e proprio da questo Walter sta sempre alla larga stando alla larga da noi la moglie di Walter passa a volte questo succede non spesso non in modo prevedibile e che sia per riguardo verso i genitori o perché Walter la manda comunque sia lei viene la porta si apre e noi vediamo Walter non è con lei lei viene senza di lui lo vediamo eppure uno di meno manca all'appello perché Ria fa parte di noi anche se lei senza di lui non conta così aspettiamo insieme a lei perché lui aveva intenzione di venire ci assicura ogni volta Walter viene dopo dice lei lei è venuta avanti perché qualcuno all'ultimo momento ha trattenuto Walter aspettiamo e nell'attesa lei diventa inquieta e preoccupata e con lei i genitori e tutti noi è successo qualcosa dice allora altrimenti sarebbe qui rimane ancora un po' e se ne va e noi restiamo lì e aspettiamo una chiamata da lei un cenno ma non ce n'è mai così come non c'è Walter non c'è per noi mamma telefona Walter è stato lì dice il suo posto è ancora caldo pensa per un pelo l'avremmo perso meno male che abbiamo avuto un presentimento e all'incontro successivo sentiamo papà e mamma raccontare di Walter e di com'è andata così diversi in fondo non siamo penso spesso anch'io voglio essere raggiungibile questo desiderio non mi è straneo e la sensazione di essere in obbligo con qualcuno la conosco anche troppo bene per questo mi tengo lontano dagli impegni e quelli che prendo li annullo per essere raggiungibili nel caso che qualcuno passi a trovarmi l'unica eccezione che faccio è per i genitori e la faccio così spesso che per altre rimane poco tempo così i miei occhi vanno dall'uno all'altro e rifletto che per noi è impossibile sfuggire al nostro legame al di fuori di Walter questo non è riuscito a nessuno e neanche a lui solo al prezzo che noi tutti paghiamo per lui e tuttavia ad ogni incontro viene il momento in cui è tempo di separarsi e di farsene una ragione e di ammettere che l'attesa è inutile almeno per questa volta e adesso infatti papà passa la mano sul tavolo e non dice niente e poi beh Walter per oggi non può più venire dice e si alza e ci ringrazia di essere venuti e poi rivolto a mamma tu vieni dopo dice e se ne va in camera sua e mamma lo segue fino alla porta che chiude dietro di lui e si sistema la camicetta e si siede ancora una volta con noi per un po' poi abbassa gli occhi e sorride e batte le mani allegra domani saluto io Walter per voi dice poi un breve passo leggiamo adesso di Daniela Striegel una possiamo una critica letteraria molto 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 nota in Austria dalla punta dalla penna molto appuntita ecco ve la faccio vedere Daniela Striegel e nella saggistica austriaca basterebbe pensare alla saggistica più sarcastica quella di Karl Krauss la autocritica dell'Austria è naturalmente un filo conduttore leggiamo qui questo questo passo molto satirico da un libro di Daniela Striegel sull'Austria che si intitola i panini nuovi dell'imperatore per esempio la Kaiser Sennel il noto panino austriaco la sua decadenza specialmente nella capitale dell'impero austriaco è in una fase di accelerazione costante mi permetto di affermare ciò poiché mio nonno era fornaio così come il mio bisnonno e così via la cosa ovvia cioè che fuori una Kaiser Sennel debba essere croccante con la crosta spessa e dentro soffice come una piuma non è più così ovvia anche nei panini apparentemente freschi la crosta sprofonda e si sfalda la consistenza ricorda quella del cartone si sbriciola tutto raffermo e insipido sciogliendosi sotto i denti come i funghi marci della buona anima di Lord Chandler naturalmente ci sono panifici che fanno eccezione ma ci sono anche le confezioni famiglia del supermercato con ostinate imitazioni spugnose delle Kaiser Semmel e qualcuno dovrà pur comprarle la virtù dei consumatori solitamente silenziosi non è l'autonomia ma la mancanza di pretese il fatto che un mestiere cali così costantemente di livello non può dipendere da un difetto di perizia andando in vacanza nel salisburghese o nel Tirolo si trovano ancora delle vere Kaiser Semmel che pur essendo prodotti industriali sono meglio di tanti altri artigianali della città di Vienna è evidente che lo standard della Kaiser Semmel presso la corporazione dei panificatori è cambiato radicalmente da imperiale a plebeo istantaneo ha rassegnato accompagnamento dell'hamburger ha surrogato cookie dent compatibile per dentature deboli mentre i nostri panini si trovano come Kaiser Rolls perfino a New York copie assolutamente perfette solo più grandi come tutto in America la catena di Fornai Anker antica bandiera della Vienna rossa oggi di proprietà tedesca è più in perdita che mai è invece annunciato che cesserà del tutto la produzione dell'imperial regia Kaiser Semmel la spesa per il macchinario che divide il candido panino in cinque segmenti spiegano è troppo gravosa l'atteggiamento imperialista era emerso già dalla presa del potere quando gli occhi di bue già detti ruote di Linz vennero ridenominati Spitzbub monelli con il chiaro proposito di una rivoluzione culturale e vennero cosparsi di un anomalo zucchero semolato invece che di zucchero a velo ora ci si potrebbe lamentare che per gli invasori culinari nelle nostre terre non vi è nulla di sacro ma si potrebbe anche vederla al contrario ne traggono le dovute conseguenze perché solo ai repubblicani incalliti Kaiser Semmel può sembrare il nome adatto per una tale decadenza per la sua povertà che si nutre di splendore storico per la sua arbitrarietà testimonianza di un orgoglio nazionale malandato il tradizionale prodotto da forno è un simbolo chiaro dello stato effettivo della Repubblica ora parliamo un attimo leggiamo una poesia di Ludwig Hartinger Ludwig Hartinger vi faccio vedere anche una foto dell'autore allora dicevo Ludwig Hartinger nasce nel salisburgese frequenta lo stesso collegio che poi in realtà era un seminario di Peter Hunt che con cui diventa amico fin dall'adolescenza ho raccolto racconti personali molto interessanti di loro che andavano a giocare a biliardino Hartinger lavora nell'editoria appunto nella piccola editoria di nicchia ma con progetti letterari favolosi per esempio lui dirige una collana lui dirige una collana nella quale vengono pubblicati autori e autrici che provengono da luoghi situati lungo gli affluenti del Danubio ora se già il Danubio è una diagonale che attraversa tantissimi mondi tantissime lingue anche immaginate che cosa sono gli affluenti poi del Danubio è un vero universo e lui cura questa collana appunto che scopre scrittori dagli affluenti del Danubio più sorprendente ancora è la sua storia di poeta perché nell'ambito letterario austriaco viennese tutti conoscono Hartinger ma non come poeta lui ha cominciato da forse da una decina d'anni poco di più a pubblicare questi suoi li chiama diari poetici e come è diventato poeta lui si è innamorato della lingua slovena lui è austriacissimo si è innamorato della lingua slovena trovata molto appunto immaginosa per i suoi suoni per le sue metafore e è diventato poeta solo in lingua slovena cioè in una lingua straniera ha imparato questa lingua ed è diventato poeta in questa lingua straniera dopodiché queste poesie appunto ha cominciato tardi a tradurle in tedesco e a pubblicarle in tedesco leggo qualche verso di Ludwig Hartinger tradotto da Simonetta Carusi una traduzione difficilissima perché è come tradurre Selan è molto simile come densità come imprevedibilità vivo bene nel bianco bivacco di parole intaglio nel nocciolo luce per più tardi intrecciamo il canestro sulla china nell'animo il canto del delta sulla curvatura del pendio pellegrino dei boschi ritorna a monte mute crescono in lui in fiorescenze nere di parole adesso lo puoi dire catturare l'ombra è un lampo oppure no polvere di vento nella scia di un lungo sogno carso il pesce pietra sogna nella mano un fagiano guizza tra i cardi diramati mentre ammutulisci le parole nel bianco immacolato del sentiero affonda la cima un albero curvo sboccia sotto il velo di ghiaccio ancora muta una parola chiara già quasi primavera si fa azzurro e tu tratteggi ali spezzate sulle onde lisce senza increspature già fiorisce la ginestra si sgretola nell'onda e la falesia ti rinfresca nei passi non dimenticare il lungo respiro delle radici come un eco si aggira dentro te si diramano i tuoi passi passando un fiocco cade sull'onda breve bacio silenzio lucentezza prati ammantati di nebbia fra stagliate rive rientranti cammini a piedi nudi nell'invisibile cortile delle cose e con gesti sinuosi noi intrecciamo nuovi luoghi si è spezzata sulla vecchia betulla la forcella di quando ero bambino nella corteccia bianca si nasconde una lettera rimasta indecifrata adesso risplenda nell'andito sulla rugiada gocciolata di traverso addormentato dolce ondeggiare sboccia come sui sassi madre perla luccica persistenza nel battito di ciglia sulla scogliera diverse sensazioni piccolo ramo diramandosi calligrafia nel vuoto allora adesso avendo così pochi minuti a disposizione scelgo scelgo cose meno impegnative e scelgo scelgo per esempio di leggere dal romanzo un elefante bianco del 2013 di Daniel Vissa Daniel Vissa è nato nel 1971 lo potete vedere qua come molti di questi artisti delle ultime generazioni ha una sua band intesa in senso professionale fanno synth pop molti sono creativi polimorfi diciamo Daniel Vissa scrive nel 2013 questo romanzo che si intitola Un elefante bianco che cosa significa un elefante bianco è un'espressione fraseologica che significa un dirigente che è stato demanzionato e cioè non viene licenziato non viene mandato in pensione rimane in servizio presso la sua azienda ma non gli viene fatto fare niente lo stipendio viene un po' abbassato un po' ridotto e questa è una situazione tipica della tipica della crisi economica globale dopo il 2008 è un romanzo che parla molto all'oggi vediamo un attimo ora questo personaggio essendo appunto un dirigente abituato ad avere l'adrenalina a mille ad essere iperattivo si trova a dover andare tutti i giorni in ufficio senza avere niente da fare e perciò diventa diventa nevrotico paranoico vedremo che ci sono molte espressioni e pensieri assolutamente politicamente scorretti che rappresentano appunto questa nevrosi dell'uomo nel tardo capitalismo leggo un po' veloce un nuovo arrivato dice quando entra nella stanza un nuovo arrivato puntuale anche io sono puntuale dice estremamente puntuale devo essere puntuale non posso tardare in nessun caso si guarda intorno deluso dal fatto di trovare solo me nella stanza e che non non ci sia nessun altro ascoltatore poi si toglie il cappotto e lo appende all'appendiabiti sono in anticipo di due minuti dice intenzionalmente in anticipo di due minuti devo ancora togliermi il cappotto indosso già un cappotto per le temperature fredde scuote tre volte il capo al giorno d'oggi gli annunciatori dicono temperature fredde e prezzi elevati ci ha fatto caso santo Adolf Hitler liberaci dai giornalisti quindi sono puntuale arrivato puntuale per non fare nulla da quanto tempo già non fa nulla non aspetta la mia risposta ma continuo a parlare pensavo di essere l'unico elefante bianco ma adesso lei è qui sono qui da un mese dice non fare nulla per un mese nulla sono le otto in punto e sono puntuale grazie a Dio questa sciocca espressione grazie a Dio crede in Dio io no ma penso molto a Lui il mio Dio non è né ebreo né palestinese di sesso maschile vecchio e austro fascista ride cosa dovrebbe fare Dio al giorno d'oggi trasferirsi nella striscia di Gaza e recitare la parte del poliziotto o il colono fare la parte del colono presumo che anche a lei abbiano fatto un'offerta dice presumo che anche lei abbia rifiutato questa offerta si siede alla sua scrivania e tira fuori un blocco per gli appunti e una penna stilografica nera dalla sua borsa porta documenti di me mi perdoni di noi ci si vuole sbarazzare ho 51 anni l'età pensionabile dovrebbe essere presto elevata ma un 51enne si offre una soluzione corridoio ma noi non sediamo ancora in corridoio mio caro abbiamo questa stanza non è vero abbiamo una scrivania e un pc qui non c'è il telefono e l'accesso a internet ma cosa vuole che sia siamo qui per distrarci qualcun altro deve distrarci salto un attimo leggo qualche altra riga da questo da questo suo delirio il libro è tutto così odio queste parole trite e ritrite ripetute continuamente che vengono dette solo per amore della conversazione le persone parlano per parlare per non tacere per ammazzare il silenzio così come lei combatte il silenzio con la radio e con la televisione odio le persone che guardano le trasmissioni televisive e ancora di più odio le persone che parlano di trasmissioni televisive odio le persone che prima di sfogliare il giornale si leccano l'indice odio le persone che premono il tubetto pieno della senape o del dentifricio al centro odio le persone che si infilano il pullover nei pantaloni odio le persone che tagliano la carne o la pizza fanno dei rumori orribili col coltello sul piatto odio il mare il mare e i suoi abitanti odio tutte le persone che mangiano animali marini odio le persone che fanno il bagno in mare nei propri escrementi e chiamano questo vacanza odio specialmente i vacanzieri della Grecia mezzi uomini mezzi formaggi di capra odio il paesaggio soprattutto i paesaggi con le mucche odio quando le stoviglie con cui si è mangiato un uovo prima non sono state appropriatamente lavate e mi rimane poi questo odore di uovo nel naso per 3-4 giorni odio l'odore del bucato che dopo il lavaggio è rimasto troppo a lungo nella lavatrice questo odore asprigno nauseante odio le persone che dicono rapporto qualità prezzo o gallina dalle uova d'oro odio gli annunciatori che dicono temperature fredde e prezzi elevati odio le persone che fischiettano melodie che tossiscono costantemente il cinema che il caffè tamburellano con le dita sul tavolo che mi spiegano che la balena non è un pesce ma un mammifero e continua così leggo un paio dico solo una cosa sulla slam poetry perché forse è una cosa meno conosciuta slam poetry detta anche spoken word diciamo spoken word è un ambito è un ambito un po' più più ampio la slam poetry è una forma di espressione letteraria di strada diciamo che nasce dal competizione di strada come quella del rap dell'hip hop nasce in america negli anni 80 con un suo fondatore ben preciso e delle regole ben precise che sono molto molto semplici cioè si parla per 5 minuti al massimo non ci si può accompagnare con strumenti musicali fine le regole sono queste poi c'è sempre un arbitro che viene scelto tra il pubblico e questo arbitro deve stabilire chi è stato applaudito di più in sostanza perciò è una forma di poesia letteratura racconto intrattenimento in genere tende anche molto verso il cabarettistico almeno in Austria e niente vi leggo vi leggo due testi no anzi il secondo è troppo difficile da leggere perché è veramente hip hop andrebbe andrebbe letto vi leggo e così ho l'occasione di parlarvi di Elias Hirschl il nome lo vedete il nome lo vedete qui sopra allora Elias Hirschl ha oggi ha 29 anni all'incirca ma già già qualche anno fa aveva pubblicato aveva al suo attivo tre romanzi era campione di slam poetry dell'Austria e rappresentava l'Austria in varie competizioni europee di slam poetry anche lui ha una sua band e fa fa anche il musicista tra tutti gli slam poets austriaci è il più è il più riflessivo i suoi racconti sono ispirati molto spesso ai paradossi della filosofia della scienza in questo caso il paradosso diciamo è aver incrociato la famosa prosa di Ingeborg Bachmann che si intitola che cosa ho visto e udito a Roma che lancia ogni capoverso con anzi ogni frase con la formula a Roma ho udito che a Roma ho visto che allora Elias Hirschel incrocia questa formula di Ingeborg Bachmann con il titolo che dà a questo racconto che è Fumo Nero dove Nero è scritto con la maiuscola perché naturalmente il nome è di Nerone Imperatore e qui si tratta di fumo di qualcosa che brucia a Roma ho visto andare a fuoco il 64 famoso autobus del centro che va da Termini a San Pietro tutto il resto tutto ciò che segue è un unico periodo è un unico periodo di una pagina dopo quattro fermate un denso fumo nero si è levato dietro all'unotto e si è disperso nel vento che ha virato all'improvviso prima che le fiamme guizzassero alte sulla fiancata dell'autobus e il fuoco si propagasse sul resto del motore due incroci dopo e facesse sciogliere la copertura di plastica sui sedili nella parte posteriore del mezzo e scatenasse il panico nel veicolo completamente affollato nell'ora di punta con pendolari mattutini ma anche un gran numero di turisti tedeschi austriaci e giapponesi che hanno iniziato a strillare come pazzi e a balzare dai loro sedili strappandosi i capelli e i vestiti dando calci con le scarpe a schiene e popliti tirandosi via a vicende i cappelli dalla testa e le mascherine antismog dalla faccia picchiando si sono fatti strada verso l'uscita prima che l'autobus abbandonato infine in mezzo alla strada davanti a piazza san pietro bruciasse completamente davanti agli occhi scioccati dei turisti e alle facce indifferenti degli abitanti di fronte all'interpretazione pietosa di Careless Whisper di un suonatore di fisarmonica rumeno senza lasciare in strada nient'altro che uno scheletro di alluminio carbonizzato dal quale gocciolato a terra vetro fuso e si è solidificato in strane forme nelle scalanature di un tombino comunale con incisa la scritta SPQR e sopra al Vaticano si è levata una fumata nera come per un disastro nucleare o per un'elezione fallita possiamo sentire se c'è qualche domanda si chiede anche io se qualcuno vedete in chat vedete se qualcuno ha qualche domanda può scriverla nella parte sulle domande e intanto ti volevo chiedere intanto ti volevo ringraziare soprattutto per aver per aver anche diciamo così per essere intervenuto nel momento in cui le cose sono diventate un po' difficili sei stato molto bravo appunto anche a gestire questa parte che in un primo momento non ti sarebbe aspettata poi ti volevo chiedere una domanda invece relativamente all'aspetto più della traduzione se ci vuoi dire qualcosa anche magari riferito alla tua esperienza personale qualche aneddoto qualche episodio su cosa ha significato confrontarsi con così tanti testi diversi con così tanti stili diversi con così tanti traduttori diversi di diverso tipo da persone più o meno esperte fino agli studenti c'è qualche qualche episodio che ti è rimasto impresso della tua esperienza qualche aneddoto perché intanto sì ti ringrazio la domanda intanto la cosa più bella è stata non era preparata conoscere una cosa devo dire una cosa particolare è stata conoscere così tanti scrittori scrittori scrittrici perché devo dire con alcuni sono diventato anche amico e tanti anche in una fascia di età diciamo molto più giovane della mia questo è stato questo è stato interessante ma anche l'incontro ecco soprattutto con dove con Hartinger ecco è stato molto particolare vabbè ti raccontavo che abbiamo scoperto questa passione Hendrixiana in comune passione per Jimi Hendrix che tra l'altro ci accomuna per quanto riguarda le traduzioni ecco ma non saprei dire di adesso di episodi certo posso parlare di una estate 2019 passata a correggere traduzioni senza sapere che poi dall'estate dopo non ci sarebbe più stata l'estate perché nel 19 nel 19 ne ho fatti due di volumi e questo questo è stato mentre questo è uscito a marzo 2019 questo è uscito a settembre perciò in quei pochi mesi in quei pochi mesi è stato fatto questo e la la revisione è stata qualcosa di massacrante e c'è da dire una cosa che anche con una buona traduzione anche con una ottima traduzione la necessità di correggere può essere può essere devastante non non ci si crede come anche traduttori professionisti possano possano essere bisognosi di profondissime revisioni e correzioni così episodi ma non saprei certo quando tu ti trovi per le per le mani una allieva che al di fuori degli studi ha una sua passione per Stefano Benni e le metti in mano un testo dove il gioco di parole è fondamentale c'è una tale congenialità che insomma spesso si trovano queste affinità ecco sì avendo la possibilità di tradurre così tanti testi poi nel tempo nell'arco di tre anni alla fine uno capisce quale testo può essere più idoneo per quella certa persona sì chissà prego ci sono delle domande sì allora le metto pubbliche così forse le vedi anche tu sì stavo in ogni caso le leggo allora c'è chi chiede di commentare brevemente la poesia di Ludwig Hattinger appunto visto che l'avevi già rinominato evidentemente ha suscitato un particolare interesse questo testo e quest'autore allora sì è difficilissimo è difficilissimo è difficilissimo da commentare posso posso dire che già no già la la traduzione della bravissima Simonetta Carusi è stato un percorso che ha durato mesi con un carteggio con il poeta però ecco versi come versi come carso il pietre il pesce pietra sogna allora quando esce fuori il carso in Hartinger ha a che fare anche con le cavità del carso e lui ritiene che la lingua che la lingua stessa che lo sloveno abbia a che fare con questo risuonare in queste caverne che porta che portano via il suono lontano spesso c'è questo c'è questo richiamare appunto karst così non sono non è una poesia che abbia una discorsività razionale da 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 spiegare sono sono associazioni molto sono associazioni che devono poi destare nel nel lettore delle emozioni e delle 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 sensazioni per via associativa per via associativa poi certo leggendolo meglio magari in tedesco si si entra si entra più dentro se se conoscete appunto paul selan è molto c'è una grande somiglianza direi che lo conosciamo no non mi rivolgevo a te non so chi non so no lo conosciamo lo conoscono innanzitutto molto anche i nostri studenti perché nella precedente edizione c'era anche tu no Giovanni hai sentito anche la conferenza Camilla Miglio direi che è molto interessante questo questo legame che fa vedere anche l'impressione che ho avuto io poi passo alle altre domande quella non non pretendo non ti voglio rispondere proprio voglio fare un mio commento è quello di un continuo lavoro di ricerca di una progressione in avanti nel futuro ma con potremmo dire i piedi ben piantati in un terreno forte fertile che è quello del passato della tradizione infatti ad esempio un'altra domanda che vedete scritta che vedo scritta viene dal nostro studente da Matteo Pagliaricci che ha avuto delle suggestioni sentendo la storia di Holtschnik che gli ha ricordato la stile della Bachmann con un argomento kafkiano quindi una vera e propria commistione di riferimenti tra lo stile e i motivi sì assolutamente sì 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 posso dire solo una cosa Holtschnik senza la L ah ok no ma forse Holtschnik grazie grazie per la precisazione e grazie soprattutto a Matteo Pagliaricci per la domanda Holtschnik è un autore che assolutamente bisognerebbe tradurre in italiano è parecchio tradotto in inglese parecchio tradotto in inglese è noto poi nel mondo anglosassone e l'Italia insomma non se l'è perso certo un autore è sempre un'osservazione di Matteo è che il brano Matteo Pagliaricci il brano della Striegel assomiglia a una glosse ironica ma appunto una glosse e a proposito di queste sempre delle traduzioni che è un argomento di quanto riesca a recepire quanto riusciamo noi in Italia a recepire questo tu hai detto appunto che Hocnik è molto letto molto tradotto in inglese certo il mercato di lingua inglese è talmente ampio e vasto che si può concedere una maggiore sperimentazione diffusione anche un maggior margine di rischio che non quello italiano la domanda successiva di Winkler Pecoraro Pecoraro scusate chiede proprio questo a proposito delle traduzioni di Reinhard Prisnitz e Friede Zurda se siano stati risultati che non siano ancora stati tradotti in italiano e si può trovare un motivo per questo soprattutto per Prisnitz allora ci sono ci sono autori di cui le case editrici italiane comprano l'opzione che non significa ancora comprare i diritti ma prendono l'opzione e poi oppure anche senza opzione promettono di fare una traduzione e poi questa traduzione non si sa se vedrà la luce o no devo dire che facendo queste facendo queste antologie qua insomma mi ha fatto piacere in un paio di casi dover rinunciare a una qualche autrice a un qualche autore perché mi arrivava notizia che l'aveva presa in Audi allora dico vabbè ci rinuncio però sono contento perché mi conferma che stavo su una pista buona però poi queste traduzioni non per adesso adesso è stato tutto fermato poi dal è stato tutto molto rallentato anche dall'emergenza covid perciò dalla pandemia però ecco ci sono per esempio io spero io vi consiglio vivamente questa scrittrice Laura Freudentala che ha scritto finora due romanzi ha scritto finora due romanzi bellissimi ecco per questo che è il secondo che è uscito nel 2019 so che c'è una c'è una casa editrice italiana che ha promesso la traduzione ma non so molto più di questo a volte queste pseudo trattative si trascinano in lungo per poi non non avere risposta appunto quando si tratta di quando si tratta di di testi di testi impegnativi e comunque non proprio di 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 intrattenimento è difficile oppure magari è quel tipo di narrativa anche godibile che però presuppone un po' di conoscenze per esempio questo è un questo è un romanzo divertentissimo anche dal punto di vista stilistico il primo romanzo di Irene Diviach che però è ambientato subito dopo la fine della prima guerra mondiale in Austria e magari tante cose locali possono un po' sfuggire mentre invece adesso ho scritto un romanzo che è ambientato in Italia però in Italia penso un po' di fantasia un romanzo giallo bene non so se ci sono ancora domande non ne vedo è anche abbastanza tardi direi che è anche abbastanza tardi e abbiamo fatto parlare molto Giovanni purtroppo io mi scuso anche non soltanto con chi ha partecipato fino a quest'ora credo che comunque sia stata un'esperienza molto interessante anche per i nostri studenti e per tutto il nostro pubblico perché poi Giovanni tu sei stato molto bravo comunque a presentare a leggere e per questo ti ringraziamo tutti noi dell'associazione biblioteca austriaca compresa Elena Polledri Sonia Curi e Costanza Ezzerni per avere comunque dato l'idea di questo grande progetto che ci sta dietro facciamo così restiamo con la promessa di vederci di nuovo magari in presenza se sei d'accordo buon magari volentieri restiamo restiamo con questa con questa idea di ripetere più avanti questa esperienza con una nuova presentazione e ridando anche a questa iniziativa a cui noi davvero lo tenevamo moltissimo fin da diversi anni tant'è che appunto ne avevamo parlato anche per per l'edizione del 2020 poi siamo stati bloccati appunto di dare a questa iniziativa la veste che merita appunto una veste in presenza in cui tutti possano partecipare quindi io ti ringrazio davvero moltissimo Giovanni ringrazio il nostro pubblico che nonostante tutto ha partecipato vorrei vorrei adesso dare l'appuntamento alle prossime iniziative soprattutto la prima quella del 13 di aprile con Francesca Zilio che per diciamo così per si svolgerà secondo una modalità più tradizionale di team non si ripeterà questo esperimento che ha secondo me alcuni vantaggi ma abbiamo potuto verificare anche qualche svantaggio piuttosto piuttosto grosso ringrazio anche la tutor Ilaria Pace che mi ha dato comunque una mano a cercare di sistemare tutto quello che succedeva per cui non mi resta altro che salutarvi salutare tutti i partecipanti e darvi appuntamento al prossimo alla prossima conferenza grazie 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 a tutti alla prossima allora grazie a tutti